note dell'autore Aldofre Enigiova di Nobru, autori del Rio Contra in Lutostra un libro uscito oggi, che sta uscendo diciamo non ha una data di confezionamento né di uscita editoriale e che però sarà disponibile in giro per Milano buongiorno a tutti e due, due fratelli sì, siamo lo frate di Guesan, di Sangue vogliamo raccontare che cos'è il Rio Contra per chi non lo masticasse il Rio Contra è una lingua che nasce in Dastra, rimane in Dastra e vogliamo sottolineare subito una cosa è un libro che non contiene regole ma vuole essere una testimonianza per chi questo libro, per chi questa lingua l'ha sempre parlata per chi la parla e per chi vuole capirci di più vuole capirci qualcosa di più assolutamente possiamo anche dire che non è esattamente un libro per tutti nel senso che il Rio Contra come naturalmente ogni gorge ogni gergo è nato per non farsi capire quindi c'è qualcuno che questo libro ovviamente non dovrebbe mai averlo in mano abbiamo messo uno schema illustrativo all'inizio del libro che è appunto dal Bob al Rosby, dalla Gaffi di Gnole al Tokesh, il Chiove, il Tebre la Dre, ma il Dre, sono tutti personaggi che questa lingua non la devono maneggiare e comunque anche se il Broli andrà in mano a queste persone sicuramente non riusciranno a capirlo fino in fondo il Rio Contra è un modo di parlare che sicuramente a Milano non so, ditelo voi che siete dei masticatori del... a Milano c'è il Rio Contra a Bergamo, a Brescia c'è il Trancorio che è un altro modo di inversione sillabica cioè mischia le sillabe a caso è più difficile a zocca di neca, sì, noi non riusciamo molto a capirlo o a gaffi di toga, dipende poi e poi invece in Francia, molto famoso, a Parigi c'è il Verlan poi esiste anche in Spagna, non in Spagna, in Spagnolo in Argentina, in un quartiere di Buenos Aires che si chiama Palermo si chiama Vesre e tra l'altro simpaticamente hanno delle parole che assomigliano a quelle di Lambrate perché dicono rabie per birra, drema per madre nelle Filippine abbiamo saputo che esiste è una strategia che senza che tutti i nuclei lo sapessero sia diffusa un po' in tutto il mondo quando non devi farti capire quindi c'è la necessità di non farsi capire da qualcuno certamente una specie di esperanto all'incontrario insomma un po' dicono che ci sia una stretta somiglianza con il ladino se lo parli a livello feprossiolena cioè in maniera in cui io contrarizzi tutte le parole dicono che somiglia al ladino non ci siamo fidati sull'esperanto secondo me proprio in realtà il reo contro dell'esperanto nel senso il contrario dell'esperanto perché non è affatto una lingua universale non vuole essere una lingua universale vuole essere la lingua del ancora più ghettizzata di quello che è un gergo è l'arma dei subalterni per proteggersi dalle autorità contro i boba di gnole, contro i rosbi tuttato lattari allora quando si prende qualcosa dalla strada e lo si fissa in qualche modo in un libro oppure non lo so in un film anche in una poesia comunque in una forma di espressione artistico letteraria non si rischia di disinnescarlo? no appunto perché c'è certo certo c'è sempre questo pericolo però diciamo che se noi ci difendiamo da un certo tipo di persone è proprio perché queste persone non riusciranno mai a capire come si traduce questa lingua sì e un'altra cosa io non ce lo vedo un boba che impara da questo libro non ce lo vedo un rosbi che si mette lì a restudio all'eriesto che abbiamo to scrittato l'atteno è un altro asarco fondamentalmente questo libro non è una fotografia cioè è una fotografia di un momento ma Iro Contra come tutte le lingue della Dastra è sempre Nevo Lunezio esatto e una cosa importante che abbiamo ribadito tante volte in tanti pezzi di questo libro è continuate a inventarlo non limitatevi e non tendete a vederla come una grammatica non c'è niente di obbligatorio non c'è niente di ufficiale anzi se lo fermate lo uccidete quindi questa è semplicemente una tappa all'Iro Contra al 2017 il Iro Contra è questo e poi il bello è che comunque il Iro Contra si mischi anche con il gergo quindi ogni plaza quella è una cosa che diciamo nel libro ogni plaza ha il suo gergo gestisce il Iro Contra nel modo che vuole noi lo usiamo così e ci siamo inventati dei metodi che suggeriamo perché effettivamente per l'unica sacra regola del Iro Contra che è il nostro suonano meglio e di conseguenza li abbiamo fissati in questo modo poi saremo i primi ad evaderli diciamo assolutamente a proposito di evasione la vostra storia personale è qualcosa di insomma un po' rocambolesco anche questo libro questo libro insomma è anche un po' un succo di tanta vita vissuta sì io ho 65 anni sono abbastanza chiove meno di meno di mio tefra Aldofre che ne ha sì ne ho 69 69 mi portate comunque bene sì è grande ma sai la dastra la dastra ingiovanisce forse sì probabilmente quello tutto il tispa che mi sono bevuto lui è un bevitore di rabbi per esempio si fuma i lobarne che io invece mi ammazzo di gassi totul nojor allora ricordiamo quindi Aldofre e i giovani Nobru il Rio Contra e l'Utostra edito da Giulio Einaudi e non ha zopre non ha zopre è un libro che ovviamente non ha zopre poi in genere costerà sui 10 flauti al massimo al massimo una decina di Yurkatz sì una decina di Yurkatz 8-10 Yubatz Neuri grazie di essere stati con noi grazie 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 grazie